Il dottor Tito Barbagiovanni è stato eletto lo scorso 27 aprile segretario regionale dei pediatri di Libera Scelta, un incarico prestigioso e significativo per il dottor Barbagiovanni che si è già messo al lavoro. Siamo in un momento di transizione, di evoluzione della pediatria di base, il pediatra di Libera Scelta per quelli che ci ascoltano, ed è un momento perché usciamo fuori da un periodo Covid che ha un po' rivoluzionato tutto e ha cambiato. Punti di riferimento. E poi anche a livello normativo europeo e a cascata italiano sono un po' cambiati gli accordi nazionali che vogliono spingere il pediatra ad essere più organizzato sul territorio, avere un ambulatorio più adeguato, anche più complicato direi, ma più adeguato ai tempi che ci, le scommesse che ci arrivano e quindi alcune attività anche di analisi, di approfondimento diagnostico dovrebbero fare i pediatri. E poi c'è un momento in cui le cosiddette AFT, di cui il PNR ci parla, sono delle organizzazioni territoriali dei pediatri che devono organizzarsi tra di loro per rispondere alle esigenze dei cittadini. Mi riferisco ai vaccini, mi riferisco ad alcuni screening che vengono fatti e tutto va organizzato e riorganizzato. Grazie a tutti.